Sì, non sentite che non ce l'ho con The Supreme, io non so chi è, non so che l'età è, non mi interessa, ma parliamo di musica, non c'è un'età, chi spacca, spacca, chi non spacca, non spacca, chi fa il mestiere, regge, chi non sa fare il mestiere, sta a casa, appunto, uno non può inventare, non stiamo giocando su Penalotto qui o Super Bowl, qui si parla delle persone che sanno fare quello che vogliono fare, uno non può buttarsi, uno non sa cantare, non può buttarsi a cantare, Ecco, a me qui questa musica qui non mi piace, assolutamente non, proprio, sono tutti sballati, sono troppo sballati. What is up YouTube, it's your boy Real G, I'm back with another reaction video called Solo Lyrics Video, from The Supreme, right? Ciao a tutti, io mi chiamo Real G, siete benvenuti nel mio canale, vi avete chiesto di reagire a questo video, qui si chiama, questa musica si chiama Solo, con la S o 5, io non so come chiamare, da Supreme, vi avete chiesto di reagire a questa musica, io reagisco a questa musica, io do i mio parere, i mio parere, non i tuoi, i mio, mi capisci? No, non credo, ok, se siete nuovi, iscrivetevi, se ti piace, metti mi piace, se non ti piace, metti non mi piace, è molto semplice, senza offendere nessuno, senza commenti di caso. Siamo qui, ognuno lascia il suo parere, io sono stanco dei bambini di 5 anni, 7, 8 anni, a lasciare commenti del caso nel mio canale, io non so dove sono i loro genitori, non so dove sono, comunque, che non doveva essere. Allora, iniziamo questa, reagiamo a questa. Andiamo a stare solo, perché state solo, vuol dire, non sono infamico, io supremo dire non dico niente per adesso andiamo ancora avanti non riesco a ferrarlo però c'è qualcosa che non che non mi convince c'è un sacco di cosa che non mi convince non mi convince c'è un sacco di cosa che non mi convince c'è un sacco di cosa che non va di qualcosa che non va assolutamente non ci becchiamo proprio assolutamente io non so che che non mi interessa parliamo di musica non c'è altra età chi spacca spacca chi non spacca non spacca chi non fa il mestiere regge chi non sa fare il mestiere a casa appunto uno non può inventare non stiamo giocando super nell'otto qui o super bow qui si parla di persone che sanno fare quello che vogliono fare uno non può buttarsi se uno non sa cantare non può buttarsi a cantare ecco a me qui questa musica qui non mi piace assolutamente non proprio sono tutti sballati sono troppo sballati troppo non è da poco però c'è troppo non è proprio non ci siamo non è proprio non di non siete ancora convinti che questa non è proprio non è musica non siete convinti ancora ok andiamo avanti ok da supreme solo lyric video io ripeto ho provato di nuovo ascoltare questa musica la mia musica non ci siamo questi i miei pareri ho reagito score 4 i suoi fan tutti i vostri vostri gruppi di non so se gruppi di bambini perché di sicuro i bambini di minorenni non so dove sono i loro genitori iniziate le offese commenti di commenti di merda commenti momenti inaccettabili offendermi di fare di tutto che non dovevano fare perché scuola perché loro fanno perché vi piace se uno non piace una cosa buona punto basta e i pareri però continua a scrivere commenti così mi fate infuriare non si fa così e visto che questo super ho a che fare con dei bambini ho già capito che ho a che fare esattamente con i bambini qui i minorenni dei bambini andare su commenti youtube a lasciare questo tipo di commenti nei miei confronti va bene dove sono i loro genitori dove sono questi bambini qui ha bisogno di assistenti sociali dove sono finiti questo tipo di gente qui i bambini di darti il telefono e datele commenti wifi datele tutto di metterli scrivi tutte queste cose in social network o internet non va bene dovete controllare i vostri fili io ve lo dico se no non siete proprio un buon padre un buon madre lasciare i vostri fili a fare quello che fanno su internet vi scrivono tutte quelle castate che scrivono lasciano tutti questo tipo di commenti per una semplice musica per semplice parere non va bene dovete tenere d'occhio i vostri fili non va bene altrimenti non siete gente siete siete proprio siete un inutile genitori proprio incapaci competenti incapaci di educare i fili e questo tipo di gente qui tipo di genitori qui ho bisogno che assistenti sociali vi porto via i figli perché non siete capaci di educare i vostri fili lasciarli a fare quello che vogliono su internet non va bene svegliatevi controllate i vostri fili minorenni bambini è quello che devo dire io ripeto ribadisco un'altra volta continuate a insultarmi continuate a offendermi perché vedete che la musica non mi piace questo è un altro io continuare a reagire e poi sarà chiesto mi avete chiesto che questa io l'ho ascoltato da il mio parere di nuovo il mio parere questa non è musica fa cagare è una merda non è musica questa è inascoltabile questa è la mia parere ribadisco è il mio parere dovete accettarlo dovete arrendervi ognuno è libero di esprimere il suo parere come voi dite che mi piace mi piace mi piace sì va bene io sono d'accordo a meno qualcun altro si qualcuno no bambini state attenti quello che scrivete stati molto attenti perché sto infuriando state attenti quello che scrivete i vostri genitori dovete stare attenti quello che stili quello che fate i vostri fili il socio è tuo non va bene non siete un buon genitore siete delle pezze di merda lasciate il vostro filo a fare questo tornate il vostro filo a fare queste cose non va bene ha bisogno che c'è non questo tipo di non è non state educando il vostro filo ha bisogno che assistenti sociali vengono a fare loro dovere a portare i stafili portare questi video da voi perché non siete capaci di educare i fili ecco una cosa che faccia educare i fili di segnare questo tipo di cosa dire tutto questo tipo di commenti di parola scrive tutto queste le cose queste cose su social network e youtube non va bene un consiglio ai genitori visto che siete capaci a fare i fili ma non siete capaci di mantenere i fili ed educarli dovete vergognare ecco tenete l'occhio un po di più ai vostri fili e cosa fanno non dico altro io ripetisco deco il mio parere di nuovo questa musica qui solo il mio parere non faccio finta a dire tutti si bravi tutti buono buono per avere visualizzazione per avere scritti in più a dire quello che incontrare che tutto belli belli no io dico è veramente quello che sento punto e basta da supreme devi fare un altro mestiere cantare non è tuo mestiere lascia perdere assegnati questa non è una musica non mi piace punto e basta è il mio parere stop se ti piace metti like se non ti piace metti dislike se non metti niente fa bene allo stesso ditemi che ne pensate senso offendere nessuno perché chiunque metti commenti di cazzo qui dentro è l'ultimo commenti che lascia non lo metto un altro io lo blocco è finita punto lasciate il vostro parere cerchiamo di andare avanti amare ii 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 Grazie a tutti.